Buongiorno e buon lunedì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi, vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale. Devo rispondere a un po' di vostre domande, cercare di chiarirvi un attimo alcune cose. Partendo comunque da un presupposto di fondo, e continuerò a ripetervelo ogni volta che posso, la verità delle cose la avremo il 25. Se qualcuno troverà determinate diciture, e teoricamente dovrebbe essere già stato preso in carico degli assistenti sociali, la soluzione unica, non ce ne sono altre, è andare a parlare con l'assistente sociale e chiarire esattamente qual è la situazione. Perché vi dico questo? Perché non abbiamo ancora una documentazione esatta di quello che succederà a gennaio. Ringrazio Cristina che mi ha fatto notare questa cosa, ma io non posso né confermarla né smentirla, per un motivo semplice. Perché non c'è la circolare attuativa? Cioè, io potrei dire che è vero o non è vero, senza avere assolutamente la prova di quello che dico. Cioè dire che i non attivabili, perché non si chiamano non occupabili, si chiamano non attivabili, a differenza di quello che ha detto qualcuno, a gennaio dovranno rientrare nel sistema di formazione e lavoro e non potranno accedere alla signora di inclusione? Io non ne ho la certezza. È possibile, ma questo dubbio era venuto anche ai ragazzi di Radio UCI tempo fa, è possibile che funzioni così? Cioè che venga lasciata la misura fino alla fine dell'anno e poi si deve inserire all'interno di quel sistema catastrofico, che è lo strumento di formazione e lavoro, perché è un sistema catastrofico, indegno di un paese civile. Ma detto questo, io non ho la certezza, perché non c'è ancora una documentazione che confermi questa posizione. Può anche invece essere che si entri nel sistema dell'assegno di inclusione. Il merito poi al discorso della strada per entrare nel patto di inclusione sociale, ribadisco, è una questione che riguarda la fragilità dell'individuo e del nucleo familiare. Non è una cosa strettamente e fisicamente correlata a patologie, perché un esempio banale, che magari ve l'hanno anche fatto ai tempi, quando siete andati a sottoscrivere il patto per il lavoro al CPI, un esempio banale era il fatto di non essere nel mondo del lavoro da molti anni, quindi essere stati esclusi da quel sistema e quindi non è possibile prendere una persona e reinserirla subito. Perché ci sarebbero delle difficoltà notevoli a fare questa cosa. Però anche qui c'è stata una grande confusione in questo senso, perché bisogna capire le motivazioni per cui questa persona non è entrata nel sistema. Cioè non lavora da tanti anni. Per cui la presenza di patologie è una cosa. E ci può essere anche il discorso appunto di essere stati esclusi dal sistema lavoro da molti anni. Però ragazzi sono tutte cose che bisogna valutare con l'assistente sociale, perché è lui che tecnicamente valuta questa cosa insieme al centro per l'impiego. Cioè nel caso di patologie conclamate è una cosa. Nel caso di fragilità causate appunto dall'uscita dal sistema sociale, e non riguarda soltanto il lavoro, parlo proprio anche della vita comunitaria, la valutazione lì passa attraverso altre vie che appunto sono gli assistenti sociali e l'eventuale segnalazione del CPI. Questa è la realtà delle cose. Come vedete si dipende sempre da quella figura, da quelle figure. Però allo stato attuale noi sappiamo quello che succederà tra qualche giorno, tra 12 giorni, perché quel tempo è quello. Ma non sappiamo cosa succederà dopo, soprattutto non sappiamo cosa succederà da gennaio. Perché tra l'altro ho notato qualcuno che è già esaltato dal fatto che la piattaforma per la formazione e il lavoro partirà già dal primo settembre. Ma io mi chiedo, ma ha capito i meccanismi con cui si entrerà in quella piattaforma o no? Perché anche se partisse il primo settembre, non è che i soldi te li danno il primo settembre. Perché c'è tutta una procedura complessa da fare che richiede, uno, l'iscrizione alla piattaforma, due, il colloquio personalizzato con firma di un patto di lavoro personalizzato, tre, la scelta delle agenzie che devono supportarti nella ricerca del lavoro, quattro, la dimostrazione che stai seguendo un corso, stai ancora facendo il programma Goal, oppure stai facendo il servizio civile. Dopo tutte queste cose, l'IMS si può attivare per rilasciare il contributo spese, perché quello è. Queste cose possono richiedere settimane. Quindi dove sarebbe la cosa positiva? Perché la ricarica di luglio copre agosto e poi? E poi queste persone cosa fanno? Dov'è questa buona notizia, onestamente? Perché manca un mese, manca un mese. Se questa piattaforma non è attiva il primo settembre, che si fa? Io voglio vedere dei fatti, non le dichiarazioni, non essere entusiasti per qualcosa su cui sinceramente c'è molto da dubitare, soprattutto quando lo Stato stesso ha dimostrato in più occasioni di avere problemi a gestire queste cose, di essere inarretrato rispetto a altri paesi nella gestione di queste cose. E poi ve l'ho detto, io non... Ritorno su quel punto, io non ho la certezza che sia così o cos'ha, per un motivo semplice ve l'ho detto, perché non ho un documento che mi confermi un'ipotesi o un'altra. Per cui, qualsiasi affermazione è valida in assenza di un documento, io non posso dare una conferma. Quello che posso farmi capire è cosa significa il concetto di fragilità, che non è strettamente legato a delle patologie, ma magari a una situazione personale che ti ha espulso dalla società. Cioè tu, per situazioni che riguardano magari il tuo nucleo familiare o altro, ti sei isolato, ti sei creato delle barriere, non sei immediatamente ricollocabile nell'alvio della società e quindi ti trovi in questa situazione. Capite? Ma io non lo posso sapere, perché queste cose sono individuali. Ognuno di voi deve valutare la sua situazione, perché soltanto lui la conosce e io non posso neanche entrare nel merito della vostra situazione, perché non è il mio giudizio che conta, ma è quello dell'assistente sociale, che si sarà comunque confrontato con i CPI, ma posto il confronto, qual è poi la loro decisione? A noi non la dicono, è una cosa che possono dire solo a voi. Detto questo, il problema, ve l'ho detto, rimarrà, e l'ho rapposto anche i radici, se arrivate a gennaio, chi è stato inserito nel patto di inclusione e verrà considerato occupabile, quindi non potrà entrare nel sistema dell'ADI, dovrà entrare nell'altro sistema. Qui il problema, ragazzi, è che questo sistema che hanno creato, di fatto, ve l'ho detto, serve solo a disincentivare il vostro accesso, non a favorirlo. Qui vi stanno dicendo che loro non vi vogliono, ma non ve lo dicono in faccia. Per cui applicano tutta una serie di situazioni che di fatto vi respingono dall'accesso a queste misure. Da una parte hanno preso il peggio che c'era delle radici in termini di vincoli e dall'altra parte hanno messo una misura che è ridicola nella sua stessa concezione. E ad aumentare questa situazione hanno creato questa carta, presentata in pompa magna, dall'Ollobregida, dalla Calderone, così come se ci fosse qualcosa di cui vantarsi, che, e riprendo le parole della Saraceno, è una vergogna come carta in sé. Cioè, con questa carta, lo Stato dimostra per l'ennesima volta di avere una concezione mammona della gestire delle cose. Tratta i percettori di questa carta come dei poveri deficienti che non sanno gestire le proprie spese. Premesso che la carta è ridicola in sé perché quella somma verrà spappolata in due o tre settimane e poi resterà nulla. Ok? Ma lo Stato ti dice anche come devi spendere questi soldi della carta arrivando a storture idiote come puoi comprare il pesce fresco ma non quello surgelato. Ma vi è partita la brocca? Voi da piccoli, eh? Perché, cioè, il pesce fresco costa di più. tanto per essere chi hai. Cioè, quindi già impediti a una persona di... Cioè, l'elenco dei beni sembra scritto da un allucinato, ve l'ho detto. Ma non è solo quello il problema, è che questa carta è una mancia che non risolve niente. Niente, perché innanzitutto hanno escluso centinaia di migliaia di persone in povertà assoluta che non possono accedere. per dei motivi idioti, perché la carta è finalizzata a famiglie con tre figli o più. E poi, forse, potrebbe andare qualcosa agli altri. Ma di sicuro non andrà qualcosa che ha un qualsiasi strumento di supporto economico. Dall'RDC alla disoccupazione e altro. Vengono esclusi i single in total. Vengono escluse le mamme con figli ma... Scusatemi. Ma senza il compagno vengono esclusi anche quelle. Cioè, venne esclusa una tale massa di persone in difficoltà che questa carta la prenderanno in pochi e senza un reale costrutto. Perché ve l'ho detto, ragioniamo su un nucleo familiare di cinque persone o di sei persone. Secondo voi, con 380 euro quanto ci fanno? quanto gli durano? È una bellissima, dal loro punto di vista, ignobile dal mio punto di vista, presa per il culo. E questa è la realtà che c'è dietro. E come vi ho detto, sentire gente che esprime, che considera una buona notizia che il primo settembre proposta una cosa che io voglio vederla il primo settembre partirà questa cosa, questa misura del suo strumento di formazione e lavoro non mi rascia contento perché ve l'ho detto dal momento in cui è attivato non è che partono i rimborsi, passeranno settimane, tante settimane se la situazione è complicata e quindi in quel periodo queste persone come vivono? dove sarebbe da essere soddisfatti? Queste persone non avranno più niente, saranno abbandonate a se stesse con tutte le problematiche del caso perché la signora, la signora ha 15.000 euro al mese che non ha mai fatto un cazzo in vita sua se non lavorare da ragazzina e te lo raccomando ed è sempre stata in politica e ha sempre mangiato con la politica non ha la minima percezione di cosa significhi vivere in povertà. Aumenteranno le file alla Caritas, aumenteranno le richieste di fondi ai comuni e sarà una lotta disperata. Ci saranno situazioni terribili in questo senso e questo Stato non ha fatto niente per risolverle. Anzi, ha peggiorato la situazione perché ribadisco come dice giustamente la San Receno tratta le persone come dei poveri idioti. Io ti do qualcosa ma non ti do la libertà di usare questa cosa. Mi va benissimo che non si possa usare per il gioco d'azzardo sono d'accordissimo ma sul resto permetti che una persona sia abbastanza cresciuta e abbia già dovuto affrontare abbastanza difficoltà da sapere come gestire i propri soldi. Poi se uno li gestisce a culo è un problema suo ma non si può valutare una massa in rapporto a un singolo individuo. E invece quello che è stato fatto io ti do questi soldi però mi raccomando è un po' come dare l'elemosina al senza tetto davanti alla chiesa io ti do questi due spicci e poi magari fagli il predicozzo e poi intanto tu te ne vai salendo sulla tua macchina di lusso e sbattendote nelle balle e pensando di aver fatto un grandissimo gesto umano no no voi avete violato palesemente l'articolo 38 purtroppo ma la cosa che avete fatto da furbi non è violarlo e abbandonare tutto ma è violarlo e poi far vedere che avete fatto qualcosa per rimediare cioè una misura che ridurrà la platea dei percettori cioè l'ADI e un'altra misura che letteralmente lascerà lo sbando centinaia di migliaia di famiglie una misura tra l'altro basata esclusivamente sul concetto di età perché ribadisco è più facile che un trentenne con un figlio trovi un lavoro che un cinquantenne senza figli proprio per come incannato il mercato poi qualcuno può venire a dirmi che sono leggende metropolitane io mi baso sui dati no sulle leggende metropolitane e i dati li analizzo li analizzo io e li analizzo già che li analizzo Alessandra lo so su questo canale non si è mai parlato di leggende metropolitane ma come vi ho detto per avere le certezze devono arrivare le circolari quella dell'Inps è arrivata e ci ha dato delle certezze non positive ma ce le ha date sulla gestione dei non attivabili servirà comunque una comunicazione ufficiale non possiamo basarci sui sulle sensazioni perché le sensazioni non sono cose concrete bisogna concentrarsi sui fatti un'ultima e scusatemi se sono andato lungo ma un'ultima cosa la voglio dire io spero che veramente la signora la pianti ogni volta che gli fa comodo e non voglio neanche nominare il dormiente perché quella persona la sua dignità la sua figura l'ha venduta al miglior offerente per rimanere ancora un po' di anni perché lui voleva rimanere ma non voleva dirlo platealmente ha fatto come fanno tutte le persone con poca con poca dignità di se stessi ha fatto i baratti sotto banco ma voglio dire comunque la signora che non si permetta più di nominare di dire di essere cristiana tra l'altro vorrei far notare che a fronte di questa situazione c'è il silenzio tombale del tizio che sta a San Pietro che non dice una parola tranne far già uscire le pubblicità per cui devono dare l'otto per mille io a voi non lo darò mai vale comunità ebraiche il mio otto per mille ma a voi non lo darò mai perché io so dove vanno là perché posso controllare dare soldi a voi e non so dove possono andare perché di sicuro i poveri ne arrivano veramente pochi no detto questo detto questo non si permetta mai più di dire che è cristiana perché lei degli insegnamenti del rabbino di Nazareth non ha imparato neanche una virgola e se dovesse guardarlo lui che è su e lei che è giù dovrebbe solo abbassare la testa e vergognarsi ciao a tutti